E ci siamo, ancora una volta dopo secoli raccontiamo la serata che precede la festa vera e propria, la serata della elevazione della sacra immagine della Madonna del Carmelo, alla fine della Santa Messa l'immagine, il quadro, la tela sulla quale è fissa l'immagine della Madonna del Carmelo è andata in processione nei luoghi della Madonna, i luoghi, i cortili di Via Striano, di Via Malet, Casa Marrazzo. Una tradizione che si perpetua da secoli, questi momenti sono stati vissuti da tanti cittadini, credo da milioni di persone che si sono portate in processione e sono arrivati qua e hanno partecipato a questo momento che per i paganesi è solenne. Ed ecco le d'amore che danno voce. Grazie a tutti. Grazie a tutti. È indescrivibile, tanta emozione, ecco un trasporto interiore e guardali come cantano, come si lasciano trasportare dalla Madonna, è bellissimo, è significativo, è un popolo in festa, un popolo che ama la sua Madonna. Inizia la festa, inizia la Madonna delle Galline. Credo che secondo me attraverso questo rito della festa della Madonna delle Galline noi rinasciamo ogni volta. Noi che siamo di queste zone, il sentire le nacchere e le d'amore fa ribollire il sangue, quindi ci mette il sorriso, ci mette di buon umore e quindi la festa della Madonna delle Galline è rinascere nuovamente. Stasera alziamo il quadro, dobbiamo inizio alla festa, siamo ad un mese, diamo l'inizio, speriamo di buon auspicio. Facciamo cantare le d'amore. Certo, iniziamo stasera, spremiamo le d'amore. Tutta pagare i rappresentanti, chi vi ha insegnato a pagare? Nessuno, a me nessuno. Nessuno da sola, se si sente il premio di buon auspicio, è una cosa che c'è dentro, quindi... È la nostra festa. Assolutamente sì. Magari è bella. Assolutamente sì. Ogni anno invitiamo sempre amici da fuori. La festa però sarà fatta conoscere lui, eh? Sì. Ma ti piace? Ce l'abbiamo nel sangue? È normale. Come papà, eh? Certo. Devo dire che è stata un'emozione, la prima volta da priore, anche se ho ricoperto nel corso degli anni vari ruoli da consigliere, da vicepriore, però il priore comunque dà un altro effetto e un'altra cosa. Sono stato contento, ho visto che è andato tutto bene, sia per quanto riguarda la presenza dei confratelli, che ringrazio, anche in chiesa, nonché la gente e i tosellanti. La prima è andata ed è andata bene.